La Fondazione Mida, ente gestore delle grotte di Pertosa Olette e dei musei integrati dell'ambiente, propone un'iniziativa che vuole rafforzare l'offerta turistica e culturale dell'intero parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. In occasione dell'ormai consolidata iniziativa del MIBACT, Domenica al Museo, per cui ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato, la Fondazione Mida ha deciso di offrire la visita alle grotte di Pertosa Oletta con il 50% di sconto per tutti i sabato precedenti alle domeniche interessate. L'idea è nata dalla volontà di agevolare agenzie di viaggio e strutture ricettive nella creazione di interessanti offerte turistiche che consentano ai visitatori di soggiornare per due o più giorni in Cilento e nel Vallo di Diano. L'iniziativa si chiamerà Sabato alle Grotte, Domenica al Museo e partirà sabato 30 giugno per poi proseguire in questa prima fase fino al 5 gennaio 2019. Per il percorso completo, le tariffe promozionali prevedono l'ingresso gratis per i bambini da 0 a 5 anni, mentre gli adulti pagheranno 10 euro anziché 20 euro e il biglietto ridotto costerà 7,50 euro anziché 15 euro. Invece, le tariffe del percorso parziale prevedono un costo d'ingresso alle Grotte per gli adulti di 6,50 euro anziché 13 euro e per il ridotto di 5 euro anziché 10 euro.